L'ultima frontiera dell'esplorazione umana potrebbe trovarsi in una gelida solitudine. Una nuova scoperta ai confini dell'Antartide spaventa gli scienziati. Cosa si nasconde davvero sotto le masse di ghiaccio del continente più meridionale della Terra? Gli scienziati cercano di convincerci che qui non c'è altro che ghiaccio, neve, rocce e qualche animale che ha sfidato le dure condizioni per migliaia di anni. Ma recenti scoperte che vanno d'antiche foreste pluviali pietrificate a misteriose strutture piramidali hanno cambiato radicalmente questa percezione. Questi ritrovamenti non solo sollevano nuove domande sul passato del nostro pianeta, ma potrebbero anche riscrivere l'intera storia della civiltà umana. In questo contesto si apre un nuovo mondo di mistero e speculazioni. L'Antartide era verde nel Medioevo Riesci a immaginare che solo poche centinaia di anni fa l'Antartide fosse almeno in una parte terra verde? La mappa di Piri Reis, che risale al 1513, mostra esattamente questo. Questa mappa realizzata da un famoso navigatore ottomano è notevole perché mostra parti della costa occidentale dell'Africa e del Sud America, oltre a una terra che assomiglia alla costa dell'Antartide. La mappa è nota per la sua insolita precisione e ci lascia perplessi su come il creatore della cartografia sia arrivato a queste informazioni. Ufficialmente l'Antartide è stato scoperto nel 1820, ma a quanto pare c'erano testimoni che erano già stati nell'area, dato che la mappa di Piri Reis non è l'unico manufatto di questo tipo. Un'altra prova del fatto che le cose in Antartide non sono del tutto corrette è la mappa di Oronteus Phineus, che mostra anche masse di terra prive di ghiaccio, fiumi e catene montuose in Antartide. Oriuntus Phineus era un matematico e cartografo francese che creò una mappa dell'Antartide all'inizio del XVI secolo. Potrebbe esserci un collegamento tra la mappa di Phineus e quella dell'ammiraglio ottomano, ma dove ha preso Phineus le informazioni su questo continente più meridionale? Queste mappe sfidano i comuni presupposti della storia e della geografia, e hanno naturalmente alimentato speculazioni e teorie sul passato dell'Antartide. I pararicercatori sospettano che l'Antartide conoscesse già un periodo di assenza di ghiacci nel Medioevo, almeno nelle zone costiere, oppure che le fonti di informazione di queste due mappe siano molto più antiche. Le mappe potrebbero essere state adottate da una civiltà che viveva in Antartide durante l'età verde. Ancora oggi, queste mappe sono simboli emozionanti delle infinite possibilità e dei misteri irrisolti del nostro mondo. Strutture piramidali nel ghiaccio eterno? Sembra assurdo, ma le prime persone che esplorarono l'Antartide vi trovarono le fondamenta di edifici e persino alcune rovine che ricordano delle piramidi. Poi queste tracce sono presumibilmente scomparse, ma esistono rarissime fotografie e persino filmati che dimostrano l'esistenza di queste strutture. La scoperta di strane testimonianze e strutture in Antartide ha suscitato molto scalpore negli ultimi anni. Dobbiamo ringraziare in particolare gli scienziati alternativi e i pararicercatori per il fatto che queste scoperte continuano a venire alla luce e a essere discusse. Quando guardiamo queste immagini, l'idea di un deserto di ghiaccio vuoto e incontaminato viene subito sfatata. Sembra invece che un tempo questo continente fosse abitato come una città in rovina da qualche altra parte del globo. Ma chi ci viveva e perché non ci sono ulteriori documenti su queste civiltà? Di particolare rilievo sono le fotografie dei primi anni del 1900 che documentano strutture che fanno pensare a una civiltà insolitamente sofisticata nel passato. Queste strutture, come le mappe dei navigatori, sollevano domande su possibili culture preistoriche che potrebbero essere esistite in quel luogo in un periodo in cui l'Antartide potrebbe non essere stato completamente coperto dai ghiacci. I moderni esploratori digitali hanno utilizzato Google Earth per cercare tracce di queste strutture e le hanno trovate. Un esempio è l'ingresso di una grande grotta sull'isola di King George che sembra insolita e artificiale. Hanno anche trovato numerose tracce di navi intrappolate nel ghiaccio e strutture affondate. Le scoperte in Antartide hanno riacceso il dibattito sulla vera natura e sulla storia di questo remoto continente. Molti scienziati sostengono che tutte queste strutture siano di origine naturale. Altri suggeriscono che potrebbero essere resti di una civiltà perduta, che un tempo esisteva in un'epoca più calda e priva di ghiacci della storia della Terra. È vero, c'era una foresta tropicale in Antartide. Cosa diresti se ti raccontassi la storia di una foresta pluviale in Antartide? E forse questa foresta esisteva esattamente nello stesso periodo dei popoli che la abitavano, di cui è misteriosamente scomparsa ogni traccia? Sviluppi rivoluzionari nel campo della paleoecologia e della geologia hanno permesso di scoprire per la prima volta numerose prove dell'esistenza di questa foresta. Fino a poco tempo fa l'Antartide era considerato principalmente un continente ostile ricoperto di ghiaccio. Tuttavia la scoperta di fossili, di antichi alberi, sistemi di radici e foglie dimostra che un tempo questo continente era ricoperto da una rigogliosa e densa foresta pluviale. Nel 2016 i geologi hanno scoperto resti fossili di 13 diverse specie di alberi nelle maestose montagne transantartiche che sono stati datati a oltre 280 milioni di anni fa. Questi alberi esistevano quindi molto prima della comparsa dei dinosauri. L'idea di un Antartico verde e vivo è ovviamente in netto contrasto con le condizioni gelide in ospitali di oggi, ma sappiamo anche da altre parti del mondo che il pianeta ha subito ripetutamente drastici cambiamenti climatici. La scoperta della foresta ci mostra anche che possiamo aspettarci sempre nuove scoperte in Antartide e dimostra che questo continente un tempo aveva una biodiversità pari a quella di altre parti del mondo. Quindi, perché i primi esseri umani o una civiltà precedentemente sconosciuta non avrebbero dovuto vivere qui? L'esistenza di un'antica foresta pluviale in Antartide offre agli scienziati indizi completamente nuovi sulla deriva dei continenti e sull'intera evoluzione geologica della Terra. Quasi nessun altro continente ha subito cambiamenti così estremi come l'Antartide e questo enorme continente è ora sull'orlo di una nuova svolta. Mummie in Antartide? Ci sono forse altre prove che un popolo simile agli Egizi viveva qui? Gli Egizi, tra tutti, sono ripetutamente associati a una civiltà avanzata molto più antica e ora anche questa è stata scoperta in Antartide. Mummie di pinguini, leoni marini e foche. Nell'inospitale e gialido paesaggio dell'Antartide i ricercatori hanno trovato resti perfettamente mummificati di animali sotto lo scioglimento dei ghiacci. La scoperta di questi animali mummificati è straordinaria, poiché i ritrovamenti di mummie nell'Antartide sono unici. Queste mummie si sono formate naturalmente o sono state create? E se sì, da chi e perché? Alcune delle mummie di pinguino ritrovate sono state datate a più di 5.000 anni fa, il che indica una mummificazione naturale dovuta all'ambiente secco e freddo. Questi processi naturali potrebbero aver contribuito a preservare i corpi degli animali per migliaia di anni. In un altro caso straordinario, sono state trovate foche mummificate nell'entroterra dell'Antartide, in aree difficili da raggiungere per le foche. Questi ritrovamenti sollevano domande intriganti. Come sono arrivate lì queste foche? Ogni insolito ritrovamento in questa misteriosa regione racconta una storia di un tempo lontano e forse di culture di cui solo gradualmente troveremo ulteriori tracce. Cosa rivelano i teschi dell'Antartide? Ora ti svelo un altro segreto sui misteri dell'Antartide. Nel 2014, in Antartide, sono stati ritrovati tre teschi straordinari che hanno stupito sia la scienza che il pubblico. Questi crani erano notevoli non solo perché erano i primi resti umani mai scoperti in questo continente, ma anche per le loro caratteristiche insolite e sorprendenti. erano notevolmente allungati. Gli esperti chiamano questa forma di testa teschi allungati e ci sono stati ritrovamenti simili in altre parti del mondo, come l'Egitto e il Sud America. Lì le formazioni craniche erano molto probabilmente una parte bizzarra della cultura. Per allungare i crani probabilmente venivano avvolti strettamente con stoffe e corde fin dalla più tenera età per dar loro una forma allungata. Tuttavia i teschi trovati in Antartide erano ancora più grandi dei tipici teschi umani, il che ha portato a ulteriori speculazioni e teorie sulla loro origine. Alcune teorie sostengono che questi crani potrebbero provenire da una specie umana preistorica, sconosciuta o addirittura essere di origine extraterrestre. Queste ipotesi potrebbero indicare ancora una volta che l'Antartide era un paesaggio abitabile prima della glaciazione e che potrebbe essere stato abitato da una civiltà finora sconosciuta. Poco dopo la loro scoperta i teschi sono scomparsi e da allora ci sono stati accesi dibattiti sul fatto che i teschi siano realmente esistiti o che si tratti di un elaborato falso. Vive anche nel luogo più gelido della Terra, il verme dell'orrore. L'Antartide è un mondo di superlativi e misteri. Solo i survivalisti estremi o le creature bizzarre come il verme della bilancia vivono qui. Questa creatura affascinante e unica è originaria delle acque profonde a largo delle coste dell'Antartide. Il verme è caratterizzato da un corpo lungo e ovale, ricoperto di setole dorate e lucenti che gli conferiscono un aspetto davvero spettacolare. Il verme raggiunge una lunghezza di circa 20 centimetri e appartiene a una classe di organismi di acque profonde. Normalmente i parenti della cocciniglia dorata vivono in mare a profondità di circa 600 metri. Cosa abbia portato questi esemplari a livelli d'acqua più elevati è un mistero. Finora non si sa molto sullo stile di vita e sulle abitudini alimentari della cocciniglia antartica. Le sue setole dorate non sono solo un richiamo visivo, ma probabilmente svolgono anche un ruolo importante nel suo meccanismo di sopravvivenza. Probabilmente servono a proteggersi dai predatori o ad attirare le prede. La scoperta di questo verme è un'ulteriore prova dell'incredibile biodiversità e del mistero delle terre e delle acque antartiche. Il fatto che gli animali vivano in ambienti così estremi dimostra l'adattabilità e l'evoluzione del pianeta. Come si è evoluto questo verme per sopravvivere alle dure condizioni dell'Antartico? E possiamo anche noi esseri umani adattarci a nuove condizioni, dato che il nostro mondo cambia sempre di più? L'Antartide ha vissuto periodi tropicali, è stato un deserto roccioso e sterile, poi è diventato un ghiaccio apparentemente eterno. Ma questi ghiacci si stanno sciogliendo e inevitabilmente riveleranno sempre più tesori e caratteristiche speciali che sono state a lungo nascoste in questo luogo. Noi esseri umani siamo magicamente attratti da questo luogo. Centinaia di scienziati vengono qui ogni anno per condurre ricerche e conoscere sempre meglio l'Antartide. Tuttavia, questo paese, grande 40 volte la Germania, rimane il meno accessibile della terra. Iscriviti subito al canale, sono in arrivo sempre nuovi video.